Io ricordo che da piccolo avevo questa grande capacità e anche voglia di disegnare, dipinge, usare il colore eccetera e mi ricordo che a me piacevano gli aquiloni. Allora quindi costruivo degli aquiloni ma erano aquiloni che non volavano, cioè tecnicamente erano veramente inusabili. Quello che però a me interessava dell'aquiloni era dargli la parte di colorazione, quindi ero già interessato agli aspetti, quindi a mescolare i colori, a dargli un aspetto estetico che fosse per me intrigante e arrivai in un periodo che avrò avuto 5-6 anni a realizzare cento aquiloni. Perché cento? Perché cento era il numero secondo me che rappresentava l'infinito. Forse nella mia mente avevo intenzione con cento aquiloni di coprire tutte le possibili combinazioni tra i colori, tutte le possibili fantasie. Però la cosa mi ritorna spesso alla mente anche perché scopro che io a 60 anni sto ancora dipingendo gli aquiloni. Di fatto se li vedi e poi soprattutto questi che espongo messi in forma romboidale con gli angoli acuti in alto, in basso e ai lati sono degli aquiloni. Non volano però il principio è sempre quello. Non è cambiato niente. In 60 anni praticamente erano già tutti in embrione. Allora, tutto il lavoro che ho fatto figurativo, sia quello dei paesaggi che erano soprattutto acquerelli, perché l'acquerello mi era molto congeniale, poiché nell'acquerello il bianco non esiste, cioè il bianco è la carta. E praticamente quella tecnica la sto usando anche adesso perché il bianco nei miei quadri non è dipinto, è non dipinto. Quindi il principio mentale di lavorazione è sempre quello dell'acquerello. Comunque il passaggio dal figurativo all'astratto è avvenuto in una maniera strana perché ero in Spagna, si andò con gli amici a vedere il museo di Dalí a Figueras. Dalí è surrealista, quindi non c'entra niente né con l'astratto né con quello che ho fatto poi. guardando le sue opere c'era qualcosa che non mi convinceva. Poi si continuò la visita, si andò negli scantinati dove c'erano le opere minori e vedi un'opera di Dalí che non si vede quasi mai, cioè se compri un libro su Dalí non la trovi, eccetera. era un'opera minore dove lui aveva fatto un tentativo quasi astratto cromatico, eccetera. E allora quel quadro di Dalí mi ha detto eh vedi anche tu non ti bastava più tutto il lavoro che stavi facendo, hai sperimentato. e quindi mi ha dato l'input per poi lasciare abbandonare tutta la figurazione e concentrarmi su ricercare nuovi modi di dipingere. Chiaramente l'astratto è quello che poi ha prevalso. Diciamo ultimamente non voglio dare in un senso preciso, cioè mi sto liberando da tanti concetti, soprattutto mentali, che mi ero costruito da solo. nessuno me l'ha imposti, quindi ho dipinto la musica, ho dipinto la geometria, ho dipinto le linee sessuali, ho fatto mostratema su questo. Ora sento il bisogno di lavorare esclusivamente con il colore e la vibrazione che emette, quindi parto con una tela molto più libero, molto... mi lancio un attimino, più sciolto. Non sembra perché tu vedi un lavoro molto geometrico, però in realtà il quadro prende vita sul giro di 20 minuti, un'ora. è strutturato, è fatto, poi dopo per finirlo ci si può mettere una settimana perché si ritorni sopra, ritocchi, ripulisci, rafforzi il colore perché spesso una mano non serve, ci sono colori che si comportano in maniera... sono più o meno trasparenti e quindi devi lavorarci. Però il tutto viene fatto in maniera istintiva e in poco tempo. Io penso che una formazione, qualsiasi tipo di formazione, sia sempre utile. Quindi se uno può fare, può studiare, è bene che lo faccia, puoi prendere al di là delle scuole che sono importanti, puoi trovare anche spunti e aiuto e puoi capire tante cose se stai in contatto con gli altri pittori, con il mondo dell'arte, se guardi, se sei abituato a fare questo. Il motivo per cui io non ho fatto l'Accademia e l'Istituto d'Arte non te lo so spiegare. Il fatto sta che erano tempi in cui non c'erano molte prospettive per chi faceva l'Istituto d'Arte, se non quello di andare a fare il professore di educazione artistica. E quindi quando usci dalle medie, da tutti super consigliato di andare all'Istituto d'Arte, io ho detto no, voglio fare l'Istituto d'Arte perché la tecnologia sta entrando e qui ho prospettive di lavoro. Cioè non l'ho mai visto come una possibilità di lavoro, nonostante che io abbia sempre dipinto e sempre lavorato. Però non l'ho mai pensato come un lavoro e quindi ho fatto delle strade completamente diverse. E tutto sommato sono soddisfatto di questo perché effettivamente ho il terrore che questo possa diventare un lavoro. Io non voglio che sia un lavoro, non è un hobby, non è un lavoro, è una parte di me, è la mia esistenza. E quindi la faccio nei tempi, nei modi che voglio io, come viene. E essere dipendente economicamente da questo probabilmente mi avrebbe relegato a continuare a fare magari il figurativo che lo vendevo molto meglio della strada. Io ho sempre cambiato, da una mostra all'altra tu vedi uno scatto, un qualcosa. Io cambio perché cambio io, cresco, non sono più quello dei 30 anni, quello dei 40, tanto meno quello bambino. E quindi la mia pittura cambia per forza. Non so se sono arrivato alla fase finale, se stazionerò qui, ma conoscendomi penso che sperimenterò ancora fino alla fine. Così no, nel rapporto diverso. Io prendo a piene mani da tutti, nel senso che sono tutti i miei maestri. E la cosa buffa è che sono i miei maestri anche persone o immagini che non sono di autori famosi. L'immagine è quella che mi colpisce più di tutti. Quindi ha su di me un'influenza anche l'immagine fotografica, la televisione, il cinema. Sono tutte input che mi arrivano. Chiaro, i grandi maestri ne segui altre cose, cioè oltre all'immagine cerchi di capire il momento. E soprattutto io guardo, più che l'autore, guardo la data. La data dell'opera che mi colpisce. Perché allora riesco a capire, riesco a collocarla in un periodo e riesco a dargli un'importanza maggiore o minore. Sì, perché poi penso sia la cosa più interessante che io posso mettere nel mio quadro, cioè scrivere il momento in cui l'ho fatto, quindi permettere agli altri di ubicarlo nel tempo e quindi si può rilezionare anche con le altre opere d'arte dicendo io sono nato in questo momento. E anche perché il titolo non dice quello che è, cioè è come una persona. le persone hanno dei nomi. Io mi chiamo Fabio. Che relazione c'è tra il mio nome e me? Sono io che poi do corpo a questo Fabio. Tu ti chiami Marco, lei si chiama Claudia. Però è per riconoscerci nient'altro. Allora, solo per riconoscerci, lui si chiama 11-6-2017. Ecco, e ci riconosciamo lo stesso. No parlando ci sono membri, non la parlando c'è tra il mio nome.